Nella dodicesima edizione del carnevale medievale san-cascianese, nell'anno 2024, con quinto classificato, con 104 punti, la contrada del Giglio. Quarto classificato, con 110 punti, la contrada del Gallo. Gallo! 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 Allora, i numeri sono incontrati sul podio. La terza classificata con 116 punti, la contrada della Torre. Con 125 punti. Tutte quelle contrade, Cavallo e Leone, hanno un pari merito. Secondo il regolamento, è stato stabilito che la contrada con il maggiore punteggio nella sezione storica fosse la vincitrice. Vince la dodicesima elezione. La contrada del Cavallo con 65 punti della parte storica contro quella del Cavallo con 63. Quindi ci sono due punti di scarto sulla sezione storica e vince il Cavallo. Complimenti a tutti voi, contrada Iole e contrada Ioli, grazie. Venite, contrada del Cavallo, venite.